Palermo bambina, l'esaltazione dell'infanzia e dei bambini con la loro capacità di rappresentare nel presente la speranza del futuro nell'anno di Palermo capitale della cultura. E questo è il tema conduttore del 394esimo festino di Santa Rosalia in programma il prossimo 14 luglio. Per la sua realizzazione l'area della cultura ha pubblicato sul sito del Comune di Palermo il bando di gara per l'edizione 2018 che come già avvenuto nel 2016 prevede la possibilità che l'aggiudicatario di quest'anno possa realizzare anche l'edizione del 2019. Gli obiettivi della manifestazione sono quelli della valorizzazione delle identità territoriali, del patrimonio immateriale e delle feste religiose, nonché la promozione dell'immagine della città a livello nazionale ed internazionale anche in relazione alla dimensione strategica dell'area mediterranea. Anche la valorizzazione del patrimonio unesco arabo normano rientra ovviamente tra gli obiettivi previsti. Il corteo del 394esimo festino di Santa Rosalia partirà nel tardo pomeriggio del 14 luglio dal piano del Palazzo Reale al Foro Italico e si snoderà a lungo corso Vittorio Emanuele con tappe alla cattedrale, ai quattro canti e piazzetta Santo Spirito, con eventi e manifestazioni a corollario che coinvolgano anche le piazze Pretorie e Bellini e infine al Foro Italico Umberto I il classico spettacolo dei giochi pirotecnici. Nell'anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura, affermano il sindaco Orlando e l'assessore Andrea Cusumano, e per il giorno della ricorrenza più importante della città, Palermo sceglie di sentirsi bambina, capace di guardare con fiducia al futuro, capace di immaginarlo e costruirlo. Palermo si richiama all'infanzia, al suo essere vivace, multicolore, curiosa e accogliente, libera da pregiudizi, da violenza, da discriminazione. Allo stesso tempo Palermo Bambina simboleggia la città fragile e che sta crescendo, di cui tutti dobbiamo e possiamo prenderci cura, per il cui futuro tutti abbiamo il diritto e il dovere di impegnarci, liberandoci da ogni forma di peste. Il bando prevede che la giudicante dovrà provvedere all'allestimento del carro trionfale, alla realizzazione della Statua della Santa e all'organizzazione del corteo del 14 luglio. Inoltre dovrà prevedere nei giorni precedenti al festino, cioè dal 10 luglio al 14, ad organizzare una serie di manifestazioni storico-culturali e religiose, per un minimo di tre eventi giornalieri, che si dovranno svolgere lungo il Cassaro e dovrà rappresentare il Palio di Santa Rosalia, in tutte le aree e piazze pedonalizzate della città, nei maggiori quartieri urbani che preservano il culto di Santa Rosalia con i tradizionali festeggiamenti religiosi e si dovranno garantire almeno tre momenti di animazione. Le offerte dovranno pervenire obbligatoriamente entro e non oltre le ore 12 del 30 maggio 2018.